Si allarga l'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri, guardia di finanza negli uffici del Consiglio regionale della Campania. Le fiamme gialle hanno perquisito questa mattina le stanze di funzionari, tecnici e del consigliere regionale, presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, iscritto dalla procura di Salerno nel registro degli indagati insieme ad altre cinque persone del solco dell'inchiesta, perturbativa d'aste e corruzione, che nelle scorse settimane ha visto coinvolto il presidente della provincia di Salerno, e sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. Su delega della procura di Salerno, la Guardia di Finanza sta conducendo attività istruttorie e acquisizioni di documenti per approfondimenti investigativi avviati nell'ambito del precedente fascicolo d'indagine. In contemporanea con il Palazzo del Parlamentino della Campania, analoghe perquisizioni questa mattina alla ricerca di altri documenti sono state effettuate anche negli uffici di Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno, di cui Alfieri ora è in carcere a Forni e sospeso da entrambi gli incarichi istituzionali, era presidente. Totale fiducia nell'attività degli inquirenti e della magistratura, scrive sulla sua pagina social il fedelissimo di Vincenzo De Luca. Già nel 2020 Cascone venne indagato per presunti illeciti nella realizzazione dei Covid Hospital a Ponticelli, Salerno e Caserta.